Abbiamo devastato la lobby insieme a Pizze ed Efesto. Sono arrivato addirittura a 19 kill con un clutch finale pauroso. Inoltre vi ricordo di iscrivervi perché il 61% di voi praticamente non è iscritto. Quindi se cliccate il tasto qui sotto iscriviti vi farete un grande favore. Io vi lascio direttamente al video. C'è la gente fuori. Mi stanno atterrando addosso. Morto uno. Arriva a te. Dai mi sono gonfiato un pochino. Sentite che è ingelosito guardalo guardalo guardalo. Ovvio. 50 ha crackato. Un po' di crack per lui. Metti 3 bianco. Per una volta. Mi hanno provato a check-inare giusto per informazione. Eh quello che ha check-inato me. No quello l'ho fatto. Big. No big sono io. Mi tirano bombe. Dentro casa. 1-2. Davanti. Ti aiuto nel boss. Porta. Poi dietro. C'è un altro di improprio bro. Sa che vi devo jumpare uno. 72 a uno mamma mia. Che c***a roba. Ma comunque c'è troppa gente te lo giuro. Eh che sa perché. Strutto uno. Strutto un altro. Ho due su di me. Non posso? Sono tranquillo. Oh c***o. Niente. Il mio è andato via con la scoba. Oh c***o. La rigna. Ti capito? Tra le altre due mori. Sì esatto. Guardate. Poi la fresca proprio sta ballando. Perché sono leggi? Che macerda. Ma io non ho sentito un quadro lì per il mio studio di ottobre. Qua si è morto uno. Sotto di me. Da me da me da me. Arrivo. Dov'è? Sta scappando. Probabile cheater. Sono il box. Rutto. Boxato. Morto. Burred. Stavanti o bene. Vengono loro. 5-2. Rutto. Sì. Sì. Questo è il route. Ha il cecchino però. Attento Pizze. Ok. Sta facendo un mini. Oh io c***o. Io dimmi che ho cominciato a... Uno dietro di voi. Un altro dietro a Pizze. Ok. Rutto uno. Lo jump o vince? Sì. 52 a quello in high. Porto uno. Prova. Sono morto. Non lo vedo. Tutti quelli in high. Trenta un altro. Ma dove c***o va questo? Sono qua. Morto morto. Il killian imbobbe il vecchio. Vogliono andare via. Credo pure il knock vecchio. Mi nutro. Ho tirato sul scatto. Uno o due. Ho tirato roba. Porca troia. Arrivo vincenzo. Sono nudo. Niente. Mi culano tutto. Avete pure il regano? Non ho niente. Ho 30 di video. Ma che cure. Ragazzi mi serve una mano. Ora. Sono tutte due one. C'è uno sicuro. Quello là che vola. Uno letto. Andate è morto. Dono. Da qua l'altro. L'altro scappa. Il figlio di puttano. Quello ho pingato. Ma dov'è la gente? Tutti qua. A parte quelli. Ma sono loro? Che c***o ne sono. Tutti? Quattro otto sopra. Lalalà. Mentre loro fightano io farmo. Gente da dietro. Gente da dietro. Non ti dico cosa sono. One pappato. Boxato. Che non c'è il petto. Dove uno. Madonna come godo. No. Avevo il passoro. Sono bastardo. Sì. Solo un ho cato. Da. Da Andy. Uno morto in volo. Dieci di danni. Come è fatta a non morire. Ma è normale che giro a 45 frame. Secondo me no. Dico la verità. Sì. Sì. È la regola. È malissimo. No c***o. È regolare bro. Normale un c***o. Porco zio. Hai pure due. I venti di scuse degli FPS. Deve essere repressivo. Eh. Non è che devo far scuse. Guarda porco zio. Ma come c***o l'aga comunque. Dai guarda un po' con la gagnaccia. Ma se niente. No. Sono mortissimo. Ah se lo vedo. 40. 80. 120. 160. Morto. Niente. Io lo guardo con la scopona. Guarda te Regan. Se lo spari. 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 Continua. Continua. Come fai? 22 bianco. Mi hanno cecchinato. So chill. Sburrato il mio. Ero pronto all'aiuto. Morto. Bravo. Che. Eh. È morto. Ma che c***o dici? Ho preso la kill. Ci vado. Mette panette di C4. Roma citto. Dov'è? Stanno sugli alberi. E uno lo fa sull'albero. Tutto uno fa. Ascendogli da qua. Ma tu ti esce da qua. Morto uno. Oh porca troia. Morto un altro. Entrano in cula. Non avevano uno shield. Stai che cosa vuol dire uno. Zero. Stai che cosa vuol dire. Ma perché non mi togli il c***o di altaplano? No ma sui gli snappi di prima. Morto un alberi. Non mi entra un singolo. Stai che cosa vuol dire. Non c'è il botto. Cioè vedo c***o. Ma frego. Morto uno. Morto uno. Morto uno. Salvo pizza. Ah dai. Non ci credo che è venuta. Ah finirsi. Non ci credo. È one. Mio di p***a. E uno qua. Trovo dentro. Morto uno. 50. 100. Non lo so vecchio. Un bordello assurdo. Bravo lo scasso. Morto un altro. Merda raga. Ma che c***o di p***a? Cavallo pompante. Tra lì mi shotgun? Eh non posso. Vado in safe. Puttana Eva. Are you a team man? C'è un sacco di tronchi. Fallo come siamo rimasti. Fallo. Buon di vita. Stanato. Saldo. Quattro team ragazzi. Due v1 v2 v1. Uno vola. Volatile. Non cado uno. Uno del team da due. No. Dove sta l'altro? Uno team da soli. Stava salendo qua. Ah sta qua dove? Vuole salire? Col finisse. No l'aria. No. Io avevo il coso scarico ragazzi. No dai. Ho ruminato la cosa. Che c***o è il capo ametico. Per tiktok vince. Eh sì era il clip per tiktok ti dirò. Era buona. Vai uno v1 v1 v1. E' tua. Fai li baitare. Giocare train. Riana ragazzi. Mammappe. Eh mi sa che è lui. E' caldissimo. Tu ti ha detto che i mazzi di loro bro. Madonna non c'è un'idea. Caldo vincenzione. Con la bomba di spaz. Ora come fresca. Molto facile per lui. Blatant. Un po' esagerato così. E' far vedere che c***o in live. Anche su tiktok. Niente. Acceso come un albero di natale. Eh blatant. Blatant. Madonna. Verro e zazera ragazzi. Madonna mia ragazzi. Si lascia aspettare dal momento. Madonna ragazzi. Si sono forte ragazzi. Madonna mia. Ho fatto 20 kill. Ho carriato ragazzi. No 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 ragazzi. Grazie a tutti.